Lutto nel mondo dello sport, una tragedia colpito al pomeriggio calcistico della Serie B. È morto per arresto cardiaco Pier Mario Morosini, il centrocampista bergamasco del Livorno. Al 31esimo del primo tempo nella partita contro il Pescara si è improvvisamente accasciato sul terreno di gioco. Il giocatore ha tentato più volte di rialzarsi, ma poi ha perso i sensi, al limite della sua area di rigore. Sono subito scattati i soccorsi, lo staff medico gli ha praticato un massaggio cardiaco. Pochi istanti dopo un'ambulanza è entrata sul terreno di gioco e Morosini è stato trasportato d'urgenza in ospedale al Santo Spirito di Pescara. Morosini è stato sottoposto a coma farmacologico. Il calciatore del Livorno era arrivato al pronto soccorso già in fibrillazione ventricolare. Disperazione tra i giocatori rimasta in attesa con la partita momentaneamente sospesa. La notizia del decesso ha raggiunto alle 17 il campo. Morosini, 25enne, bergamasco di nascita, era cresciuto nelle file dell'Atalanta giovanile. Con la quale aveva vinto anche uno scudetto allievi. Aveva militato in tutte le rappresentative nazionali fino all'Under 21. L'esordio in Serie A era avvenuto con l'Udinese nell'ottobre del 2005 contro l'Inter. Nella stagione 2006-2007 aveva giocato con la maglia del Bologna. Attualmente era in prestito a Livorno fino a giugno. E' un'ottobre del Livorno fino a giugno. Non è un'ottobre del Livorno fino a giugno. Grazie.